Bilancio, approvato il rendiconto finanziario della Regione Toscana per l'anno 2021, diminuisce il disavanzo di amministrazione, sale invece l'indebitamento totale. Comunicazione, il nuovo media center dedicato a Sassoli, porta il nome del giornalista presidente del Parlamento Europeo, il nuovo spazio per gli operatori dell'informazione inaugurato a Palazzo del Pegaso. Ben trovati, nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, la nostra trasmissione dedicata ai lavori del Consiglio regionale. E quest'oggi apriamo con i numeri, numeri finanziari ed economici, perché con 24 voti favorevoli e 14 contrari, il Consiglio ha approvato il rendiconto finanziario per l'anno 2021. Le previsioni definitive hanno determinato entrate ed uscite pari a 17 miliardi e 527 milioni di euro. Il disavanzo di amministrazione diminuisce quindi di 1 miliardo e 526 milioni, 350 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Ma rimane comunque il quinto più alto d'Italia ed è assorbito per l'80% dalle spese sanitarie. Sale invece l'indebitamento totale della Regione. E allora andiamo a sentire le interviste realizzate con i consiglieri regionali dai colleghi Egidio Conca e Gianni Maestripieri. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo. C'è una tendenza anche al recupero delle vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio del rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica, ormai dal 2013 questa Regione non ha più aumentato tasse imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto. In Italia ha oltre un miliardo e mezzo di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le asle o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente, degli organi politici dell'amministrazione regionale, su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti, sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una Regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale e credo che la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente non dublice occhi, fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra Regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione quella di settembre, dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Preoccupo nei conti della sanità e i costi delle partecipazioni? Molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità di giocare una partita nuova, dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi fondamentale e poi c'è, credo, bisogno di una necessità, un equilibrio, di tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello, uno standard alto dei propri servizi e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra Regione. Per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che, diciamo, ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana. Anzi, abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo. Così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte emozioni che vengono approvate dall'aula. Quindi per noi stessi, come consiglieri di opposizione, le margini di azione sono veramente limitate. È stato inaugurato a Palazzo del Pegaso un media center dedicato a David Sassoli, ovvero il Consiglio regionale ha da oggi un nuovo punto di riferimento. Il giornalista e Presidente del Parlamento europeo scomparso nello scorso gennaio ha avuto l'intitolazione di quello che è un punto di riferimento proprio per la comunicazione all'inaugurazione in un clima commosso ed emozionato. Erano presenti tra gli altri il Governatore Eugenio Gianni, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'Europarlamentare Simona Bonafè, il Presidente della Commissione regionale per gli affari europei, Francesco Gazzetti e alcuni componenti della Commissione. Una giornata bella, bella per tutta la Toscana. Dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista, ad un grande uomo delle istituzioni, ad un grande politico. E dedicare il nuovo media center, il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e cittadine della Toscana è secondo me un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa, la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà, di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani. Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro. E allora insieme alla Commissione Europa, insieme al lavoro del Presidente Gazzetti, abbiamo messo a disposizione tre borse di studio per premiare i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa. È una giornata dove si contrastano diversi anche sentimenti perché chi ha visto anche il video introduttivo si è emozionato, io mi sono emozionato, non mi vergogno a dirlo, e soprattutto a evidenziare il legame forte che c'era con David, ma non soltanto come uomo politico. Io, come voi, sono un giornalista e quindi David ha rappresentato una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani, come si suol dire, per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fatti che accadevano nelle nostre comunità. Poi ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni e è arrivato al vertice delle istituzioni europee facendo il Presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee. Quindi è una persona che francamente ha fatto molto, molto bene in tanti passaggi. Adesso c'è un luogo fisico, è un luogo che sarà a disposizione, come ha ricordato il Presidente Mazzeo, che ringrazio moltissimo per il supporto a tutte queste iniziative, e che sarà a disposizione di tutti i gruppi e ovviamente di tutti gli operatori dell'informazione. E questo è frutto, insieme al bando che abbiamo presentato per un premio di laurea intitolato, anche questo alla memoria di Davide Sassoli, anche del lavoro che stiamo facendo congiuntamente e trasversalmente all'interno della Commissione delle Politiche Europee del nostro Consiglio regionale, a cui va il mio ringraziamento nelle persone di tutti i suoi componenti, a partire dall'Ufficio di Presidenza con i Vice Presidenti Giovanni Galli e Anna Paris. Io sono straordinariamente colpito da Davide Sassoli, perché è una persona di cui ricordo la chiacchierata pochi mesi prima che morisse, che facevamo proprio qua a Firenze, quanto sentiva la sua fiorentinità e la sua toscanità, perché poi nell'adolescenza erano stati soprattutto i parenti a Prato a fare per lui punto di riferimento. Quindi da un lato questo senso di identità toscana molto marcato e per noi di grande piacere, ma dall'altro il respiro di un uomo d'Europa, del mondo, il respiro di un uomo che prima da giornalista, poi nel ruolo fondamentale di parlamentare e poi di Presidente del Parlamento europeo ha saputo svolgere un'azione che è quella progressista di attenzione a tutti i valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di giustizia sociale, di equità che ispirano l'Europa che vogliamo. È stata presentata a Palazzo del Pegaso l'esposizione dal titolo Boom, la moda italiana che celebra le origini del Made in Italy e omaggia il versiliese Giovanni Battista Giorgini, promotore nella prima storica sfilata a Palazzo Pitti nel 1952, che accese riflettori internazionali sulla moda italiana e quindi è per questo che è considerato il padre del Made in Italy, la mostra è organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca su proposta di Sabrina Mattei. L'inaugurazione della mostra è prevista per sabato 6 agosto alle 11 a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi e dal 10 settembre a Palazzo delle Esposizioni a Lucca. Apriremo gli archivi delle case storiche di moda, sia fiorentine e non solo, ma anche gli archivi privati con veramente delle cose interessanti e dei tesori, sia dal punto di vista della proprio realizzazione di accessori e abiti, ma anche fotografici. Ci sono degli inediti molto interessanti. La mostra si svolge prima a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, dal 6 agosto al 28 agosto e poi dopo a Lucca dal 10 settembre al 16 ottobre al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Come CNA Federmoda abbiamo aderito entusiasticamente già dall'anno scorso a questo progetto Boom, la moda italiana, perché tende a contestualizzare la nascita del Made in Italy anche in un percorso storico. Quindi non solo mostra quella che vedremo da agosto a Forte dei Marmi, ma attorno esiste un progetto più profondo che è quello di analisi di quella che è stata in qualche modo la nascita della moda italiana, da un progetto legato all'idea, sicuramente diceva Battista Giorgini, ma poi che dà il via a quella che è l'attuale industria del Made in Italy. Quindi soprattutto come associazione di imprese ci teniamo molto a mettere in evidenza questo, come il settore appunto sia partito da una realtà, da una storia che è quella legata all'artigianato e alle piccole e medie imprese per arrivare a portare dei risultati estremamente interessanti dal punto di vista economico e sociale per l'intero paese. La Villa Bertelli, che è da sempre il polo culturale di Forte dei Marmi, è lieta di ospitare questa iniziativa, questa mostra sulla moda, anche perché Forte dei Marmi è conosciuta proprio anche in considerazione dell'esistenza di numerose mesoni, di numerose firme e quindi sembra il posto ideale proprio per ospitare una mostra di questo tipo. Oltretutto è anche l'occasione per ricordare il maestro Giorgini, appunto il creatore del Made in Italy che ha avuto proprio i Natali a Forte dei Marmi. Dobbiamo essere tutti per sostenere la moda italiana e toscana e questa è un'iniziativa importante a 50 anni dalla scomparsa di Giorgini, una delle figure storiche che ha lanciato la moda, ecco ci ricordiamo 70 anni fa la prima sfilata, è la storia della Toscana che non è soltanto cultura ma è anche moda ma è anche manifatturiero. Sappiamo quanto è importante ancora oggi la moda per l'indotto, per chi ci lavora e siamo qui per dire che il palazzo del Consiglio regionale si apre ancora una volta all'esterno e insieme con altre realtà fa qualcosa di bello. Il mio applauso anche a CNA e al Comune di Forte dei Marmi. E con la mostra dedicata al Made in Italy si chiude questa puntata di Monitor Consiglio ringrazio per la collaborazione tecnica Matteo Bedini e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.